Ciao a tutte ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi video sulla mia postazione make up. Questo video mi è stato richiesto da due ragazze iscritte al mio canale in due momenti diversi. Innanzitutto da Zupup Mary già qualche tempo fa, una ragazza che io seguo sempre qua su YouTube, molto carina, andate a vedere il suo canale perché è molto simpatica. Ciao cari, questo è il video che mi aveva richiesto. E poi recentemente anche da KissGivellina72 su Instagram. Anche KissGivellina72 ha un bellissimo canale qua su YouTube che vi consiglio. Io lo seguo sempre, mi piace molto, fa anche delle video ricette fantastiche. Per cui Daniela, questo è il video della postazione make up che mi aveva richiesto. Inizio subito a mostrarvi tutti i trucchi che continuano. Allora partendo dal ripiano, vedete che c'è lo specchio della Babyliss, lo specchio luminoso. Quello che proseguo io è rotondo, non ve lo inquadro direttamente ma comunque sia il classico specchio rotondo luminoso. La parte è normale, dall'altra ingrandisce mi sembra 5x. Poi ha una lontana con tutte le regolazioni delle varie possibilità di luce, a cui non si può utilizzare spento, con la luce naturale mi sembra, la luce fredda e la luce calda. È un accessorio secondo me indispensabile se siete appassionati di make up. Poi, sempre sul ripiano, ho messo il brush holder della Neve Cosmetics. Sapete tutto, ho fatto anche una review di questo prodotto. All'interno ripongo tutti i prodotti di forma allungata, per cui non tanto i pennelli che ho organizzato diversamente. Allora fino a qualche giorno fa ci tenevano anche i pennelli. Nel frattempo ho acquistato la Glossi Artist Pochette, sempre della Neve Cosmetics, e devo dire che mi trovo meglio per i pennelli. Poi da questa parte troviamo il mio beauty rigido della Brisei, con il quale, prima di allestire questa postazione, mi spostavo a truccarmi al piano inferiore della casa sul tavolo di cucina. Ripongo tutto quello che mi serve per fare e disfare un make up. Per qui vedete ad esempio lo struccante per occhi, la crema idratante, il botone fioc, la mia fascia con la quale l'origine di Cartotorial, la neve rissante e quindi tutti i prodotti di questo tipo. In questa cassettiera che ho aggiunto, ed è di quelle cassettiere in plastica rigida che si trovano nei Brico Center, molto pratica, tutte le cialde diciamo singole o comunque le palette più piccole. Passiamo ora ai tassetti del mobile. Allora in questo cassettone centrale più ampio ho messo tutte le palette, più altre cose che adesso vi faccio vedere. Allora innanzitutto c'è la Glossy Artist Pochette che vi dicevo e che vi mostro, vabbè ve la mostro anche ora, ma ve la mostro più in dettaglio nel video all Neve Cosmetics che ho registrato sempre questa mattina e non so se caricherò prima o dopo di questo, ma comunque a ruota. E vedete qua ho messo tutti i pennelli, questi sono tutti i miei pennelli. E qui appunto c'è il blocco dove segno i miei appunti per i video di YouTube e poi come dicevo tutte le palette più altri oggetti come il piegaciglia, il fondotinta, il kit per le sopracciglia della Essence, alcuni lip gloss che sto provando e poi soprattutto le palette. Allora abbiamo tutti gli arcobaleni della Neve Cosmetics, per cui c'è la elegantissimi, la scurissimi, la chiarissimi e la intensissimi, la Naked, la palettina della Kiko, la Rainbow Cake, poi c'è la Naked 2, il mio amore, questa palettina Night Club della Essence, la palettina della Collistar, la Coupart, eccetera eccetera. Allora, questa postazione make-up sicuramente verrà aggiornata in un video dopo le ferie perché devo cambiare la carta nei cassetti, insomma sicuramente vi dico l'ho allestita due giorni fa, quindi è proprio nuova. Allora il primo cassetto non ve lo mostro perché è pieno di bigiotteria che conservo per ricordo e devo riorganizzare perché non ho il coraggio di toglierla, quindi niente. Secondo cassetto, in questo cassetto cosa troviamo? Le matite varie, per cui i pastelli, la matita labbra di MAC, i eyeliner in gel della Maybelline New York che io possego in tre colorazioni, per cui c'è il nero, il blu e il marrone. In quest'altra cassettiera ci sono ombretti più vecchi che non vi sto neanche a mostrare. Nel cassetto sotto ci sono i rossetti, qui troviamo tutti i rossetti rosa per cui vedete spiccano i MAC, qua i rossetti rossi per cui ad esempio Russian Red, adoro i rossetti MAC però ce ne sono altri come quello della Collistar, questo qua della Deborah, qua tutti i rossetti rossi che mi piacciono molto. Infine qua troviamo tutti vari come ad esempio scusate che mi appoggio sul piano, il fondotinta della Neve Cosmetics in polvere libera, Light Coverage Mineral Foundation Light Neutral, una cipria trasparente della Essence, le mie adorate ciglia finte della Essence, la base Essence che non vedo l'ora di iniziare a utilizzare da I Love Stage, un vecchio correttore della Deborah che non mi sto neanche a mostrare e poi i due blush in crema della Kiko, rispettivamente Spicy Chocolate col quale mi trovo benissimo, è quello più caldo, più rosso e Pleasant Pink Azalea col quale mi trovo meno bene perché è un po' troppo lucido, non mi piace. Qui abbiamo rossetti nude, come vedete anche rossetti piuttosto vecchi, tra i quali però spiccano questo qua della Chanel che è Lola e poi Please Me di MAC. Per cui ragazze questo era il video sulla mia postazione make up, io per adesso vi saluto, vi ringrazio, mando ancora un bacione a Kiss Gibellina 72 e ad Azupu Pumeri che mi hanno suggerito di fare questo video e ci vediamo presto alla prossima occasione, ciao!